Eccoci con un nuovo episodio di Tales of Arise. L'episodio precedente ho fatto un po' di pesca, abbiamo preso due da tre stelle, che mi ha fatto sudare sette camicie, ma ci siamo riusciti e inoltre abbiamo sbloccato così un'abilità di Kisara, per chi fosse interessato. Volevo vedere se riuscivo a fare uno di due. Ora stiamo a 43, ma io ne vedo solo uno qua. Ah, perché forse questo più quell'altro? Proviamo. 43, allora ci siamo. Allora, terra. Dovresti mettere elementi di vento. Ma come è un rigido che mi si sposta? Oh, che ha fatto che sono morti così semi distrutti? No, non è che potrei fare questo qua, lo blocca? No. L'abbiamo atterrato, dai, buono, buono. Coppiamo, coppiamo, coppiamo. Un'altra cosa che ho imparato a scopo ritardato è che possiamo fare il contrattacco quando pariamo. Lo so, lo dovevo sapere prima, però ci sono certe cose che possono sfuggire. Ah, è l'altro che ha fatto A. Alla limite l'ha fatto lui, non l'ho fatto io. Ho visto una cosa che si bloccava. Vediamo che fra un po' siamo a metà. a metà, ti fa il boss. Approfittiamo, approfittiamo. Ho sbloccato la limite lui. Ah, quindi ti meno... Ehi, sono uscite le amichette sue. Ehi, sono uscite le amiche. Ehi, sono uscite le amiche. Oh, l'avevo fatto. Oh, l'avvo, ci sta pochissimo. Che gli è successo a questo? Dai, affassati. Sì, bravo. Ma... Sto andando a tagliare sopra il limite. Oh, l'avvo è morto. Non me ne ho accorto. Pottiglia di vita. Vai. Oh. Oh. Ah, ci fa la piacere di morire. Ok, finalmente dopo non so quante ore che abbiamo fatto siamo riusciti a finire la primissima missione. Ok. Che soddisfazione. L'avevamo qua proprio. Allora. Entriamo in paese e vediamo cosa ci dà. No. Mi ricordavo che era più elevato, invece no. 43. Si è sbloccata tutte e due. Ho capito. Ah, il consiglio sull'abbigliamento. Un momento. No, vabbè. Perché hai detto così? No. Ah, glielo potevamo pure dire prima sta cosa. Questa. Questa. Ah, sopra. Quindi sicuramente possiamo fare qualche arma? Vediamo. Andiamo a farci le armi e vediamo se abbiamo sbloccato qualcosa. Allora, quindi questa l'abbiamo sbloccata. Quest'anno quindi artiglio è quello che ci ha dato il boss che abbiamo fatto. Quindi ne sono sì e ne possiamo fare a tutti. Ho finito i soldi! No! 12, c'è da ore fa? Non me lo dà? Ah, l'avevo già fatto lì. No! Manca l'osso! Artiglio ce l'ho! Quindi devo prendere un altro di mostriciattolo. Pure a lui è uguale? Ma non vale, perché? Sì, vogliamo tutti sfumare questo tondico. Andò è? Ma lei è l'unica che non lo usa. l'artiglio. Lui lo usa? Non ci vuole sto orso. Ma strano. Vabbè. Ho venduto delle cose anche per niente. Volevo provare una ricetta che forse l'ho sbloccato col pesce. Questo dovrebbe essere. Questo dovrebbe essere. Sì, pesce e bossa. Che ti dà veramente esperienza. Dovrebbe essere medio. Ma sì. Proviamo. Ah, per quello che mi è costato. Vanzo ruba di sì. Vanzo ruba di sì. Vanzo rubare. Vanzo rubare un'invito che ho la loro a fare. Vanzo rubare hanno una ricetta? Il si che dà molto. Vanzo rubare la ricetta sui. Vanzo rubare in una ricetta sale. Allora ancora m'inforcola e tranquille. Vanzo rubare. e adesso andiamo a giustamente Non ci poteva fare un uso veloce direttamente lì? No? Eh, che bel posticello, proprio! Scusa, stanno messi peggio di noi, che è successo qua? E questa è la gente che ci frega l'energia astrale? Come mai stanno ridotti così? Come mai stanno ridotti così? Cosa nel mondo? Questo, essendo il territorio di Renan, sono preparato per molte cose che sembrava differente. Ma questo? Questo è un po' più di quello che avevo pensato. Le fondazioni della città hanno cambiato. Cosa potrebbe causare questo? Quando Lenigus cambiò la forma, deve avere un effetto sull'interiore, anche. Cosa potrebbe avere un effetto sull'interiore? Cosa potrebbe trasferire la città di Danna? Ma non potrebbero cambiare le posti dove vivono. Questi sono i loro domini, certo? Credo che i cittadini non avevano molto a dire in quanto riguarda. Inoltre, trovare la zona di Forbidden-Zone è stato molto più complicato. Ma c'è qualcuno che l'ha riconosciuto? Non c'è nessuna disfa? No? Infatti, non mi schiavetti. Non c'è nessuno. Le fondazioni della città hanno iniziato a cambiare senza warno, e ora tutto sembra così. Ci siamo tutti aspettati per il Sovereigno per direzziare ciò che sta succedendo. Ma inoltre... Avakir, senti a me. Siamo cercando la zona di Forbidden-Zone. Hai una idea di dove potremmo la trovare? La zona di Forbidden-Zone? Cosa cosa potremmo potrebbe avere là? No. È leggermente incazzata da quando li ho ucciso a... Pun' suomato? In чемное c accidentsa? Cosa? Cosa? Cosa con? Cosa? Grazie, sei molto premuroso. Beh, vabbè, abbiamo capito, gli ha ammazzato uno, c'è una tizia che forse se lo vede l'ammazza a vista. Se ciò che Avakir ha detto è vero, potrebbe sembrare che i l'ammazza di Lennigis sono... Ci sembra che sia più stessi di tutto ciò che sta succedendo qui nel loro mondo. Dostante il fatto che è in realtà... Abbiamo bisogno di più informazioni. Chiamo parlare con i cittadini, vediamo... Nel tempo stiamo arrivando, possiamo chiedere di loro a la Red Woman... E non dimenticare di trovare la scuola a la Forbidden Zone... Let's leave the talking to Shion. Non possiamo avere un po' di Danans potevano loro... Buona idea, credo che è... Io vorrei assistere. Sì, sicuro? E quindi... Vediamo che ci dice. Ah, ma fanno il contrario. Cosa dire? Eh, infatti, lo credo pure io. Ma andiamo a trovare queste risposte, dò? Sì, che forse è semplicemente scappato. Quindi ci saranno pure i mostriciottoli in giro? Oh, una ricetta ho avuto? Ce la farò a fare tutte ste ricette? Lordship, oh, what a great honor it is to finally... I descended to Dana during the last crown contest also. Alas, when the contender I was backing failed to clinch... I witnessed the deaths of so many slaves. Indeed. Sorry to interrupt, but we're looking for a woman dressed all in red. Have you seen anyone of that... All red, eh? No, I can't say I remember anyone like... Yeah. What about down on Dana during the crown contest? You didn't see anyone like... What's with all these questions? I've never seen her, okay? Not recently or otherwise. Never mind, forget I asked. Sorry to take up your time. Non c'è me da arrabbiato. Che sta colo là sopra, facciamo prima. E ce ne andiamo giù. Oh, dear me. As you want me to say, I want you to be one and the same. I have returned to fulfill a special... As your Lordship wishes. First, Lanegas mutates beyond recognition. Now, the Ilcharis house has produced a great many lords over the centuries. Your good wishes do me an honor. Se gli dicesse che invece lui la volete in bandiera, vediamo che dice a voi. Regola. Questa non parla. Quindi non hanno più potere sui mostriciattoli. Questa non è tutto? Tu sembra un po' lungo. Oh, sì. Non sembra che non trovare il mio modo a riuscire. Ho spero di andare in questo modo. La situazione è... Ho spero che il Sovereigno... Non mi dimentico qui molto molto tempo. Un'altra parte può solo riuscire a queste parti per tanto tempo, prima che ho spero di evitare. Ma magari dovrei andare in questo modo dopo. Dichattacchè che conoscivi un altro modo a riuscire? Lordopole Milcaris! Ma... ... 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 Grazie a tutti. 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 No, è una persona che voi non riuscite a vedere... Per quello non lo vedono... Ah, perché ho il lord? No. I'm just helping them along. Hey! What's got it? I can barely understand a word they're saying. And what's with the weird poses? Was it something they ate? I hope you're willing to take the blame for the... I wasn't expecting them to take me so seriously. I'll go and have a word. Ahahahah! A quanto pare fa fare battute pure lì. Ah, non ci sta andando? E basta sti video. Ma esiste sta arena? Ma Doheline was a lord, right? Only current acting lords have power. Renan society is quite strict about such matters. Even if the other lords were still around, I doubt they'd be able to do much. I wonder what they'd think if they were here to see Lennigas now. Balzif? Canna? Now that I think of it, aside from Doheline, we know next to nothing about them. Well yeah, why... To us Danans, they were just enemies we needed to overthrow. I know. But seeing Renans in their own city, going about their day to... It feels strange to imagine the lords living here too... Yeah? If you're that curious about them, why not try inquiring with some of the local? Every lord in their household has their share of supporters here on Lennigas. And luckily for us, the people here are unaware of the events on Dana, which means they should be more inclined to talk to us. Ok. Ok, quindi abbiamo sbloccato una missione anche qua? Eh? Dobbiamo parlare? Ok. Dobbiamo parlare. Parliamo. Eh? Sì! Ok, quindi sentiamo le varie visioni, i diritti lord che abbiamo sconfitto. No, ma in realtà non erano mostri, non erano proprio persone. No, ma in realtà non erano più, ma in realtà non erano più. Eh, non ci fa rispondere. Cosa? Cosa? Mm-hmm. Mm-hmm. Ha, ha, ha. Vabbè, questi sono quelli che abbiamo trovato in questa zona della mappa. Immagino che gli altri usciranno più avanti. Cosa? Noi tutti i lori vogliono diventare il prossimo Sovereigno. Ci sono anche pensi di servire come guardi... ... di... ... di... ... di... ... di dove non poteranno più avanti... altre distrutture. Un' Allison? Ti informo che la tua sovrana è morta? E la vostra sovrana è vero. Non è venuto da una servizia. Ha un'occhio più più vero. E alcune persone qui non solo hanno compagno la sua credenza, ma anche hanno lo spettacolo. Ridicoloso! Ok. Ah! Quindi quello d'acqua si è infiltrato, in realtà c'era un altro prima che ha fatto fuori e ha preso il suo posto. Oh, mi fa muovere? Ma vede tutto quando? Ma sarà... esiste questo paese qua? Erano tutti umani. Ok, questa missione è ridicola, è finita. Ok. 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 Adesso ti combatte. In effetti, non ha torto la tizia. Non l'ha vista però lì. Non l'ha vista. Non l'ha vista, non l'ha vista. Non l'ha vista, non l'ha vista. Non l'ha vista. Non l'ha vista, non l'ha vista. Si, tu as vediato per me o la la. Dohalim! non ci so un posto dove dormire io non ho combattuto manco un secondo l'altra puntata è solo video questo giro è lo stesso bisogna che dobbiamo fare tutta trafila per farci fare un po di storiella ma si vede che tanto quella c'è la rizza contro e ci vuole un genio wow this place is beautiful yeah it must be some sort of rest and leisure you think man these renin sure know how to live it is before i went down to dana my friends and i we avakir faria tarnagin he was the one that faria mentioned right he was once my dearest closest friend as well as faria's betrothed despite faria's lower class upbringing she possesses a tremendous talent entranced by her playing i helped her overcome her sense of inferiority and introduced her to it was a time of great joy for people bound only by their love of music a friendship based on mutual respect and as i suppose it's natural you would see it a strain i would have now i think the idea of breaking away from society's constraints and choosing your friends besides it was that way of looking your praise does me too great an honor i was and even then it only lasted until the crown contest began tarnagin had fallen for faria by becoming lord he aim to arrest her from her humble origins and raise her to the highest effort fate was not so what happened tarnagin was no match for me in combat on a level playing field but he was desperate and low on options and he couldn't stand the thought of you mean he resorted to dirty tactics to try to win right but then why does faria think wait how could i tell her combined with the trauma of losing her beloved and by her friend's hand no less so instead you let her go on hating you so she can that's not the same as right it is exactly the same unable to face the loss of my friend and the burden of my duty instead i decried my faith as for what happened after that you but if you hadn't become lord men and sia wouldn't be what it is now shion's right what other lord would have treated me as you did anyone else and i would have been dead long you've saved so many people you saved me it's that so try not to blame yourself the bird frank as always but i shall do my best do you think you'll be all right yeah i think so it's important to have someone like that i didn't realize how difficult it is just to beat sometimes just knowing someone's on your side can be in i hope you're right hmm i mi basta glielo fanno nello scherzetto figura i never appreciated until recently just how much you were always there to support me i see a medic and supply officer i see a medic and supply officer i know you're with me they're likely to have something niente niente rothori niente 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 io com in E' arrivata a zero soldi. Vediamo se ci sono delle nuove armi, no sempre quelle sono. Cioè io non lo so, avevo mangiato col pesce così ho pescato con tanta cura, no non ci dormo, non ci dormo, voglio combattere, combattiamo. Ma sì, dai, che dobbiamo fare? Questo sta a 44. Ma non ho visto che cos'erano, non c'hanno nessuna... Ah, che scacciatura. Allora, facciamo così, togliamo come questa con la pistola. Mi rompe le palle. Io anche io ce l'ho menato. Dai, ce lo faremo a salire il coso? Oh, boh. Oh. 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 Eh, ce lo facciamo fare sto... sto bosta? Manca io, si attacchi che fuoco che li fanno, li fanno loro? Sì, non erano big talkers, sicuramente. Sì, non erano in più di un po' di Dohalim. Sì, sembra di riconoscere... E ancora, tradizionalmente, Leningus non è più alto sui problemi. Un po' frenzio... I loro ozioni che mi ricordano dei soldati e dei soldati che incontriamo in Gannath-Harros. I non ho mai visto qualcosa di così qui in Leningus. Talvez qualcuno non vogliono qui. E i soldati sono il loro modo di uscire. Ma l'abbiamo già battuto due volte? Oh, c'è una spiccia. Che cosa è qualcosa? Ah, mi ha fatto perdere i cinque. È una stronzata. Praticamente lo batteremo più avanti, ma non sapremo mai cos'era. Sicuramente dovremmo fare attacchi di fuoco. Madonna mia, quante ce ne sono qua? Immagino che siano di vento. Ah, buio! Quindi dovremmo usare luce. Ah, questo è contro le maledizioni. Sì, non li prenderò mai qua. Ma ci vuole... Rallout. Iniziamo a usarli io. E non qua. Ok. Eh, possiamo usare un altro. No, ma questo piatto è eccezionale. Ok, ci siamo arrivati. Ah, pensavo che era molto più distante. Allora. Sempre di buio. Hangi chedoing. Scarlet Inferno! Si è sempre che. Provino un pollo! Chiamo! 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 Chengo! Chiamo! 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 Grazie a tutti Il mio alfi è andato a sto giro un po' pazzo. Non lo blocca più nessuno. Sta super mega esaltato. Grazie a tutti. Meglio che la fena è kamikaze il suo giro. Speriamo che ci spiegano qualcosa di più. Convincente, sinceramente. Mi ha fatto la battuta giusta? Tu sei un savano. Aprici la porta, no? No. 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 E a quanto pare si ciccia pure dall'energia astrale. No? Si fa vedere cosa è successo all'epoca, forse? Sì, buono. No. 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 Perchè non mi trattare come una persona? Perché sei. È vero che siamo in un mondo diversi, ma nessuno di noi chiede di essere qui in questo modo. In questo senso, tu e io siamo molto gli stessi. Non possiamo fare questo. Non potremmo parlare con noi come persone, se non potremmo vedere la humanità in noi. Quindi credo che la domanda che dovresti spiegare è, ma non potremmo parlare con te come uno? Non sei come gli altri. Magari che non sono come me. Ecco cosa facciamo. Ci sono loro la città della città. Tu mi porti a Danna, questo è il fine. Sono tenendo a te la tua scuola di questo. E confronto a te, non a loro. Neori. Quindi hanno visto tutti il ricordo di Alfe? No! 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 Non mi piace! La momenta l'entranzo è stato aperto... C'è un stream di Danna è riuscito... ...e non per la prima volta, anche... ...e' che ha fatto... ...l'altro, un vasto di Danna è stato sifonato e senti... ...però che abbiamo conosciuto, quizà, sia il spot dove... so you think it might have been the energy itself that was responsible we have no way of knowing maybe it's not even as deliberate xion yeah it was so that was my ancestor huh yeah there certainly what about you me even putting aside the question of where that vision came from it's likely reliving painful episodes from your past i can't just pretend like the past never besides if it helps us uncover the truth of what that ser alfin that's not all this whole time we've been fighting to free dana from the renans but now that we're here i'd like to liberate them too if i can which is just another reason i can't afford to whether you're on dana or somewhere else you always stay the same you're in not that i'm complaining nobody's here stay sharp after that last illusion there's no telling what could happen here hmm boss boss e che boss oh oh no giusto ci hanno messo la tizia non è giusto così quindi lei non possiede un corpo ma in possesso delle persone annazio questi draghi qua va di luce devo mettere la maghetta per forza infatti 45 allora cambiamo a Vuoi colpire il centro, per il resto poi te ne devi scappare. Niente. Non so se conviene tenere le lingue. Non so se conviene tenere le lingue. Ma fa un brutto? No 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 Ok Vediamo come fa a rinsalire l'altra E ce la fa Ah toglierci quell'oggetto Oh brava Ma quando si riprende si incazza Oh Non ti pensi In questo caso I'll take her off your hands You? Avakir What are you doing here? I was curious what you were up to So I took the liberty of following you to find out I overheard what you said about Tarnagin About how he really died I'm sorry, I had no idea And you believed me? What makes you so sure I wasn't lying? I like to think I know you a little better than that Doheline Give me some credit I'll take Faria Leave her with me I know better than to ask what you're up to But whatever it is I hope it all works out Thank you He seems like a good friend He hasn't changed He never was one to stand out Instead As for Faria It's always the closest to me who get hurt You don't seriously blame yourself Somebody got to her Just strike back at me Someone who knew me well enough to know that I'd head And the same goes for you as well Neither you nor Faria would have You're wrong Kelzalik was the one who killed my brother As for Tarnagin If it weren't for the crown contest He'd still be alive But that's why we're fighting To put an end to this whole messed up system that treats people as ex- Indeed Reading society of this- You can't atone I know it hurts to hear But those people are dead No amount of soul search Forgiveness Acceptance The- So I just forget the harm I caused? No, the opposite in fact You remember You ne- Not for those already past For those still- Kisara's right So long as we- That's what living's all about Being able to still make a difference Punishing yourself for the past Won't- Only fixing the problem in its stead Is that what you're saying? That's right You have to live for tomorrow, Dohalim Don't forget we've still got a mystery- Shion Huh? Thank you You have my- Glad to be of servant I'm glad we could stop Faria without hurting her You all did much for her as well I'm most grateful Aw shucks We're on the same team, right? Do you think Faria was really being- Certainly seen that way The question is who? The same person who's behind all of this, I'll bet Brainwashed or otherwise The feelings of resentment she holds Someone used her because they knew we'd hold back If that's not playing dirty- It does tell us one thing at least Someone here in Lenigus is watching- There's no question By someone capable of getting inside a person And manipulating them like a- You're not aware of If you did anything about her, Rinwell? Yes. It's that voice The will of Denis Oh, let's see what happened Oh, let's see what happened Let's see what happened That day I couldn't see And now Oh We're not doing anything Oh, let's see I can see Oh, let's see Oh, let's see cosa? c'è tanta energia astra... ma da dove è veniva? è quasi come... è vivi In realtà è viva, è la vita di tutta la gente che avete tolto. Ecco, da dove arrivo. Non ho sbloccato qualcosa. Non è stato lui il sovrano, è stata lei. Tramite lei è uscito. E lui no, non si è accorto di niente. Diciamo che ha sfruttato l'energia negativa. E' una specie di parassita. E' una specie di parassita. C'è una scuola che si tratta di noi e tutto ciò che altro. Un voidio vazio. Un nulla che così completo e dominante che non c'è ancora alcune parole per descrivere. Il fine del tempo. Le visioni dell'apocalipsa che hai visto. Se avessi che erano davanti, se avessi che erano davanti, io... Ah, che fa giù? C'è una scuola che erano dei ricordi di Neori, certo? C'è vero. È come se le loro pensi che erano direttamente a noi. Almeno ho saputo che non erano i miei. Il potere che si tratta di lei, mi ricorda di Shion's Thorni. Se è quello che è responsabile per tutte queste visioni che ha avuto, magari... magari i miei Thorni sono creati da quella stessa energia astrale? E come fai a toglierla? Quindi, praticamente, che cos'è? Gli scendenti... fanno quella cosa? 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 Se è la stessa energia che i miei Thorni sono creati, deve essere la stessa energia astrale, certo? E non è quello che solo Renan hanno? Cosa? Cosa. La stessa energia astrale è possedata da Renan solo. E quando la stessa energia astrale si svolge, si sviluppa la sua propria forma di sentienza. se si so... ... 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